Justificarmi e gar Effecto Sono Nicola Greco e sono un nodo in un'immensa rete di relazioni. In questo momento sto attirando esattamente 474 nodi. Sicuramente vi starete chiedendo che ci fa un ragazzo di 19 anni e perché si sta giocando la sua presentazione dicendo di essere un nodo. Da due mesi a questa parte sto studiando e ricercando strumenti e sto sviluppando strumenti per studiare social network analysis. Che cos'è la social network analysis? È lo studio delle reti sociali, quindi può essere lo studio di quello che può essere Facebook, Twitter ma anche reti sociali che sono offline. Da due mesi a questa parte vedo me stesso come una cosa del genere. Credo di essere un nodo e ora vedo voi non come persone fisiche ma come altri nodi. Ora siamo 474 nodi, credo, connessi e io sono al centro di questo grafo. Se eliminiamo qualche nodo dovremo ottenere una cosa del genere, quindi abbiamo gruppi di amici che sono venuti insieme, persone o coppie e persone che invece sono venute da sole. Io sono al centro del grafo e sendo al centro del grafo posso dire che in questo momento sono un influencer. Se dovesse entrare in questo preciso istante un'azienda e dice devo investire su qualcuno per convincere queste persone, in questo momento guardando questo grafo investirebbe su di me. Per il semplice fatto che sono su questo palco e sto parlando. Sono venuto qui per parlare di una cosa che è la condivisione. Condividere prima dell'area di internet voleva dire prendere qualcosa, dividerla e darla a qualcuno. Condividere può essere utilizzato a condividere un sentimento con un'altra persona, a condividere un momento. Grazie a internet condividere significa la stessa identica cosa. L'unica cosa che cambia è il modo in cui noi condividiamo. Noi possiamo condividere semplicemente scrivendo 140 caratteri e premendo il tasto invia. Noi possiamo condividere un intero video soltanto premendo il bottoncino condividi. Noi possiamo condividere la nostra posizione facendo un tap su un telefono. Condividere ha anche un'altra particolarità che è quella che ognuno di noi può pubblicare un contenuto senza averlo generato. Questo video che finirà sul canale TEDx avrà sotto lì in basso un bottone che permetterà di condividere. Quindi voi soltanto premendo quel bottone potete dire tutte quante le cose che sto dicendo ora in questo momento ai vostri 500 amici con un clic solo. E la cosa è fenomenale per il semplice fatto che la condivisione porta a un fenomeno che si chiama vera realità. Io ho 500 amici, basta che uno di loro vede ciò che pubblico e gli interessa e lo ricondivide, lui mi può portare altri 500 amici. Ora per esempio vedo che ognuno di voi ha una macchina fotografica o qualcosa del genere. Se in questo preciso istante io vi chiedo di condividere e di scattarmi una foto e di condividerla su internet, noi siamo 474, 474 per 500 persone nel giro di pochissimo tempo dovremmo raggiungere una cosa tipo 237.000 persone. Volevo raccontarvi velocemente una piccola storia perché mi hanno detto che fare storytelling invecchia. La mia storia è più o meno questa. Qualche anno fa ho creato la petizione Linux nelle scuole italiane. Ho dato qualcosa alla rete e la rete mi ha restituito indietro piccole soddisfazioni, le 2000 firme e alcune scuole che sono passate da software proprietario a software libero. Un'altra storia invece è quando due anni fa condividevo codici su internet, codice libero, che tutte le persone potevano scaricare, era codice per una platforma che si chiama Bodypress e le persone potevano utilizzare il mio codice. Io ho dato codice alla rete, la rete mi ha restituito connessioni, persone e i primi lavori che per esempio mi hanno portato fino a qui. Quindi condividere una visione macro della condivisione delle cose che facevo su internet mi ha portato un grande ritorno. Questo ritorno lo possono avere benissimo aziende, cantanti o politici che fanno un uso corretto di internet. È una sorta di energia che si conserva, tutto ciò che do in qualche modo mi dà qualcosa che mi ritorna indietro. Questa è una visione però molto macro. Vediamo invece nel micro come funziona. Come ho detto, negli ultimi due mesi ho ricercato qualcosa che è appunto la propagazione dei contenuti in rete. Il grafo lì in alto è un semplice grafo, sono cinque persone. Questi tipi di diagrammi si chiamano appunto grafi e sono cinque persone, abcd, che hanno delle reazioni tra di loro. I grafini in fucsia, in rosa, sono i diversi alberi di propagazione se il contenuto inizia a propagarsi da A. Il nostro obiettivo è che il nostro contenuto raggiunga nel minor spazio temporale tutta la rete. Quindi se noi partiamo da A abbiamo diversi alberi di condivisione perché da A può condividere D o B però l'importante è che B condivida affinché si arrivi a E e l'importante è che E condivida un contenuto affinché si arrivi a C. Questo potrebbe essere benissimo la storia di un video su internet e come viene propagato. Una persona lo pubblica e le altre persone lo condividono. Se noi prendiamo quelle piccole forme che abbiamo visto prima e le mettiamo a forma di albero abbiamo appena scoperto che le condivisioni sono veri e propri alberi anche utilizzando terminologia matematica. Alberi perché io posso condividere da qualcuno ma quel qualcuno non può ricondividere da me perché è stato lui il sorgente di informazione. Ci troviamo a TED. Ho deciso di portare un grafo un po' più complesso di quello di prima ma in verità questo non è affatto complesso perché quando si fa social network canali non si gioca su 7-8 nodi ma su migliaia e migliaia. Possiamo iniziare anche questa volta la nostra condivisione possiamo farla iniziare da se A condivide un contenuto su internet ad esempio B e G riescono a vedere il contenuto direttamente e quindi si illuminano. L'importante è visualizzare e che il contenuto si propaghi. Infatti una volta che B e G condividono altri elementi riescono ad osservare il contenuto. Una volta che tutti quanti gli elementi possono potenzialmente vedere il contenuto la propagazione si dice completa. In questo caso non c'è affatto bisogno che F condivida il contenuto per il semplice fatto che il contenuto si è propagato nella rete. Quindi quello che a noi serve è avere nodi che siano collegati ad altri nodi che abbiano almeno condiviso una volta affinché avviene appunto una cosa del genere. Questa è la propagazione ad albero sono le varie possibilità però se noi riguardiamo un attimo il grafo osserviamo che se da A abbiamo uno, due, tre passaggi ogni passaggio vuol dire ogni pallina rossa vuol dire che una persona deve aver condiviso se una persona deve condividere questo significa azione dell'utente l'azione dell'utente non è una cosa gratuita il video viene condiviso se interessa quindi è difficile far arrivare un contenuto con tante azioni dell'utente quindi meno azioni abbiamo dell'utente e più riusciamo a raggiungere la rete in modo più efficace. Infatti se noi partiamo da D abbiamo una propagazione che è soltanto di uno o due step rispetto a quelli tre di prima e se noi facciamo caso non c'è bisogno che tutte le persone in una rete condividano affinché il contenuto si propaghi infatti non c'è bisogno che F, H, I, A condividano il contenuto basta soltanto che la prima parte del grafo condivida che il contenuto riesce a raggiungere tutta quanta la rete fare questo tipo di analisi anche se è apparentemente stupido serve per non solo per mettere in confronto il proprio tipo di comunicazione con appunto modelli ideali e vedere quanto si è stato efficiente ma serve anche per stringere tra virgolette questa sorta di costi di azioni utenti questa non starò a parlare di formule ora sono abbastanza noiosa anche per me ho scritto 34 pagine su questo e quindi credo sia giusto andare avanti quello che vi ho appena spiegato ho scritto in matematica in breve parole una matrice può rappresentare un grafo uno è il numero uno rappresenta la connessione tra un nodo e l'altro zero se non vi è connessione se eleviamo la matrice alla prima scopriamo quindi una matrice normale è elevata alla prima una matrice che rappresenta un grafo è elevata alla prima da quante sono le connessioni di un punto rispetto agli altri punti alla seconda e alla terza, alla quarta, alla quinta da quanti sono i passi che deve fare un nodo per raggiungere gli altri nodi in breve se noi sommiamo tutte quanti le matrici alla prima, alla seconda, alla terza i zeri in una matrice si annullano e questo sta a significare che il nodo il contenuto si è propagato in tutta la rete quindi facendo analisi di questo genere scopriamo che per esempio per D bastano soltanto tre condivisioni quindi non c'è bisogno ogni volta di fare il disegnino e dire questo è il primo nodo questo è il secondo nodo questo è il terzo nodo questa è una breve spiegazione matematica di come si fa a trovare il nodo migliore il nodo migliore era D in quel caso ed è il nodo che matematicamente è posizionato al centro del grafo e quindi è più vicino a tutti quanti gli altri nodi ed è molto più semplice avere una sorta di propagazione che cos'è il social networking potential e perché tutta quanta questa discussione il social networking potential non è altro che il valore della nostra rete quanto vale una persona nella nostra rete ovviamente D è al centro del grafo ma non vuol dire che è il più influente però matematicamente le analisi che abbiamo fatte prima non contengono analisi sociologiche quindi la limitazione del modello di prima è che è prettamente matematico però tramite analisi matematiche possiamo riuscire a capire quali sono le persone che possono essere più influenti o che possono dare molto più valore al nostro tipo di comunicazione quanto vale una persona? una persona per un'azienda vale quanti soldi spende nel tempo se vogliamo dire può valere anche a quante persone può far arrivare un messaggio perché se è la persona a far arrivare il messaggio l'azienda riduce i costi di comunicazione per via di un passaparola quanto vale una persona per un'azienda e quanto costa per un'azienda arrivare alle persone? ogni mi piace, ogni click che una persona fa dipende da studio ci sono varie ricerche ci sono alcuni dati che dicono che il mi piace di una persona su una pagina su Facebook costa 0,2 centesimi ci sono altre persone che dicono che costa 0,9 però stiamo parlando di fan veri e propri di fan che poi io acquisisco e loro mi compreranno il prodotto e se consideriamo questo numero 0,2, 0,9 proviamo a moltiplicarlo per i 42 milioni di fan della Coca-Cola viene un numero altissimo una cosa tipo 10 alla settima 10 alla settima deve essere un decina di milioni di euro e questi decine di milioni di euro sono soldi che la Coca-Cola non ha speso avrà speso sicuramente un'altra quantità avrà fatto sicuramente un altro investimento però questo valore questi diciamo 10 milioni 20 milioni di euro sono il social networking potential dell'azienda di un video di un prodotto ossia sono il valore che ha la rete e più si punta alle giuste persone e alle persone che possono portare più valore alla rete tramite lo studio di social network analysis più si può arrivare ad una comunicazione più efficiente in questo grafo per esempio abbiamo visto D è il più influente però per esempio se ora dovessimo iniziare a parlare di medicina molto probabilmente non sono io la persona più adatta e quindi il mio livello di influenza scende però matematicamente posso capire tramite questo grafo immaginiamo che io sono D che per me è più facile propagare il messaggio i reti molto più grandi la social network analysis è una parte di social network analysis che si chiama social network intelligence e parte degli algoritmi che abbiamo mostrato prima riescono a far capire a un'azienda a una persona a un politico quali sono le persone più adatte qual è il target delle persone sulle quali bisogna investire e per arrivare a tutti quanti gli altri nel grafo social network analysis può essere utilizzata per tutto anche per esempio questa foto è un po' datata anche per esempio per capire dal punto di vista matematico quali sono le persone più influenti in una rete di terroristi per fare questo tipo di analisi ci sono strumenti che fanno social network intelligence il mio strumento è uno strumento accademico non è a scopo di lucro si chiama Bruno e Bruno che cosa fa? analizza la base utenti di un'azienda o di un politico o di un cantante o di qualsiasi altra cosa e riesce ad estrarre quali sono le persone più adatte le persone più influenti per tipo di argomento quindi non è solamente una ricerca non è solamente una ricerca matematica ma anche una ricerca sociologica tutti quanti voi saprete che ci sono quattro fattori di produzione importanti in un'azienda il lavoro il capitale l'impresa e il territorio a questi quattro fattori io mi sentirei di dire aggiungiamocene uno che è il valore della nostra rete è una sorta di capitale che sta nella rete quindi che sta in tutte le persone che sono connesse con voi quindi un'azienda che ha migliaia e migliaia di visualizzazioni un video che ha migliaia e migliaia di visualizzazioni o un cantante che ha migliaia e migliaia di fan ha una sorta di capitale che non ha non ha creato lui investendo dei soldi sì sicuramente tramite pubblicità e robe del genere ma è qualcosa che prima non esisteva perché non avevamo social network ma che riesce a dare un valore aggiunto a quello che può essere comunicazione qualsiasi cosa che vuole fare poi il cantante con questi migliaia di fan morale della favola in conclusione internet per me è tre cose condivisione conversazione ed empatia e se noi favoriamo la condivisione dei nostri contenuti riusciamo a sfruttare questa sorta di prodotti di contenuti non prodotti ma rigenerati ripubblicati possiamo sfruttare il fenomeno della ricondivisione possiamo quindi puntare a una sorta di viralità e la condivisione genera conversazione la conversazione genera le reazioni e tutto ciò che genera le reazioni poi genera una sorta di empatia abbiamo visto tutti quanti ad Haiti quello che è successo con il terremoto internet che condivideva internet che si univa e conversava per salvare le vittime di Haiti e quindi abbiamo avuto il fenomeno dell'empatia grazie a tutti grazie grazie grazie